Sono qui oggi per parlarvi della ricetta che ho fatto per San Valentino. Il formato di pasta che ho scelto sono le farfalle biologiche, queste qui, molto buone e io vado pazza per le farfalle. E come ho fatto questo piatto? Ah, questo è il piatto finito. Come l'ho fatto? Allora ho fatto cuocere le farfalle, nel frattempo ho fatto saltare baccalaggi ammollato e pulito con uno spicchio d'aglio e con tante olio. Poi ho tirato su le farfalle e le ho buttate in padella, le ho fatte saltare di nuovo bene con tutto il condimento e poi ho impiattato mettendo sopra del pangrattato, tostato e leggermente muto. In ultimo ho aggiunto questi pezzettini di rape rosse, ho fatto anche una decorazione con un cuore, insomma comunque l'insieme è decisamente buono e invitato. Grazie a tutti.